Una tribuna ad hoc della giostra del Saracino dedicata esclusivamente ai turisti. È il progetto a cui sta lavorando l'amministrazione comunale in vista delle edizioni della giostra dei prossimi anni, alla luce anche della vendita dei biglietti online che è andata a gonfie vele. Un modo dunque per internazionalizzare ulteriormente l'interesse per la manifestazione. Ci sono sempre più stranieri, abbiamo registrazioni di prenotazioni da parte di tutto il mondo. Ormai alla giostra del Saracino vengono da parte dei posti più disparati e sta aumentando sempre di più questo tipo di richieste. Infatti stiamo pensando per l'anno prossimo di dedicare una nuova tribuna proprio agli stranieri. Per la giostra straordinaria del 27 agosto siamo al sold out, sono esauriti i biglietti. Per la giostra di settembre vediamo la settimana prossima come va, però non ho dubbi che andrà sul tutto esaurito anche quella. Ormai sono anni che non rimane in venduto neanche un biglietto. Abbiamo letto qualcosa su VIP, personaggi di rilievo tra cui Gianni, non so se state lavorando e sarà anche ad altri tipi di presenze. Sì, ci sarà ovviamente il nostro limpionico Matteo Marconcini, è stato invitato per la giostra del 4 settembre e sarà quindi ospite nostro. Poi avevamo altri inviti che però purtroppo quando uno ha a che fare con persone di rilievo non sempre si riescono a incastrare gli impegni della propria vita con le giostre e purtroppo ci hanno detto di no. Speriamo per le prossime giostre.